Ciao a tutti dal vostro caro Max Random Oggi siamo un nuovo minigioco, cioè The Herobrine Io sono Herobrine Io sono Herobrine e devo cercare di uccidere tutti Perché sì, sono Herobrine Questo minigioco, in poche parole, qualcuno è Herobrine e gli altri devono cercare di ucciderlo Per poi vederlo e va bene Adesso, in questo momento, io sono Herobrine e devo cercare di uccidere le altre persone Ed è una soddisfazione esserlo Adesso cercheremo molta gente e la andremo a sciuttare Allora, dov'è che sono? Mmm, questa potrebbe essere una buona vittima Per il nostro caro Herobrine È troppo divertente, è la prima volta che ci gioco però ci sta, no? Allora, se magari riesco a prendere uno di questi, lo uccido magari Uh, spada di ferro Buono Herobrine ti sta colpendo Uh, mi dispiace, ti ho appena ucciso Non mi vedono, non mi vedono Me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado Stanno ancora cercando di uccidermi Stanno... Stanno... Non muoie, non muore Oh, ho uscito, ho ucciso a quello Ok Adesso lui è avvelenato Lui è avvelenato E sta scappando, come vedo Sta scappando Ma non te lo permetterò Perché sono Herobrine Herobrine Che è la prima volta che fa Herobrine Eh, se intrappola Se intrappola Mi dispiace Questo qui e qui giù Vediamo che fa Vediamo che fa questo bel ragazzuolo Ah, questo è quello di prima E muori, c'è Tu muori, tu muori, tu muori, tu muori Tu muori, tu muori, tu muori, 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 muori Uccisa Uccisa Ecco, l'arco non fa niente, cara amica, cara amica Allora Adesso Secondo me si stanno nascondendo le persone Eh sì Secondo me si nascondono Oh La spada di Herobrine Vediamo se trovo qualcuno da Eccolo Un esemplare molto Eh, tutti con l'arco stanno E muori Con l'arco non fa niente Io sono Herobrine E uccido questo Ne sono rimasti tre ragazzi Tre Anzi Scusa Due Ok Sono rimasti solo due sopravvissuti Eh, se trovano un'altra Se trovano un'altra chiave Mi vedono Quindi devo fare pvp contro due persone Però Aspettate un attimo Dov'è che sono? Questo è il punto di domanda Eccone uno Buono, 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 buono Mamoni Ho vinto Ho vinto Eh ragazzi Herobrine vince Boom Boh È la prima volta che gioco Ed Herobrine Sfascia Tutti Ok Ho vinto Oh, bellissimo questo gioco Ragazzi Ragazzi Dopo quella bellissima vittoria Direi di fare un The Lab Ci sta, no? The Lab Io non mi ricordo nessun Gioco di The Lab Però Mi piace The Lab Bello The Lab Oh, che è successo? Laga tutto Eh no, giusto Mi ha messo le texture Allora Tra quanto inizia? Ah, è già iniziato Hello L'ho detto Ma è iniziato Non capisco Ciao Ha L'ho detto Rozensi E' un giorno di testo prima di noi, vediamo quali esperimenti facciamo oggi. Torch pole! Brake blocchi! E... Build a smell man! A rather fine seleccion, non ti pensi? Well, let's get to it! Stop the teleporter! Madò che figo! Non mi ricordavo questi effetti sonori così bellissimi. Dodgeball! Esperimento uno di tre. Come si gioca a dodgeball? Non mi ricordo nulla, ragazzi! In questa partita, esperimenti di giochi. Due, uno... Via, che devo fare? Ah, devo uccidere la gente con sta roba. Devo colpire la gente. Ok, ci sta. Devo colpire la gente? Ah, sì, devo fare più punti possibile colpendo la gente. Ok, dai, dai, colpisco questi, colpisco questo. Sto quasi a... Sto quasi a... Sto quasi a tantissimi... Sto tantissimi punti. Mi son flashato. St'atizia, st'atizia. Ah, sai, voglio andare da questo povero coso qui che... Ma muori! Ma muori! Oh mio dio! Ma no! E' finito. Sono arrivato penultimo! Ma non ci credo! Vabbè, giustamente. E' la prima volta. Non è proprio la... Secondo... Breaking Blocks. Che cos'è Breaking Blocks? Ragazzi, io non so giocare a questi giochi. Gli esperimenti a casissimo! Che devo fare? Devo rompere i blocchi. Ah, devo spaccare tutto! Non... Non ho capito, sinceramente. Ah, devo rompere questi blocchi d'oro per avere TNT. Capito? Figo! Oh, ragazzi, sono secondo! Sono secondo! Non ci credo! Ok, altre 5 TNT. Sono ancora secondo. Sono primo! Ragazzi, sono primo! E' la prima volta che lo faccio. La prima volta sono primo. Ok, 5, 5. Vai, vai, vai! E... Boom! Ancora primo, ancora primo. Sono ancora primo. Qui... Eh, no, mi spiace. E... 5 TNT. Io sono un Griffer! Eh, si capisce. Ok, lì sopra ci sta un blocco di oro. Quindi lo vado a prendere. E... Ma dai, troppo... Troppo figo sto gioco! No, mi sono piazzato al secondo posto! Non si può fare, sto fatto. Oh mio Dio! Due blocchi! 10 TNT! Buuuu! E' finito? Secondo posto. Ok, GG. GG. Secondo posto ci sta. Ci sta, ci sta secondo posto. Allora... Bulls, Snowmen. Ah, devo creare dei... Snowmen. Snowmen. Vabbè, hai capito. Devo creare dei... Snowmen. Snowmen. Vabbè, hai capito. Siamo già a 19 blocchi. Quindi... Fighissimo. Adesso prendiamo... Ci troviamo, camminiamo, prendiamo pure questo, ci fermiamo e prendiamo la zucca. Ci fermiamo e prendiamo la zucca. Andiamo avanti, andiamo avanti e prendiamo la zucca. Andiamo avanti, andiamo avanti e prendiamo la zucca. Mamma mia, ragazzi. Possiamo fare già 5 Snowmen. Andiamo avanti e prendiamo la zucca. Adesso, ragazzi, sono tipo ultimo. Però, adesso vi faccio vedere come divento tra i primi. Tac, 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 tac e tac, tac, tac. No, questo no. Non si può rompere. No, vabbè. Ok, adesso facciamo altri blocchi. Un magazzino di snowmen. Ok, tac, 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 tac e tac. Ok, mi mancano soltanto le... Eh, vabbè, dai. Questo minigioco non lo vincerò mai. Ok. Prendiamo questo, andiamo qui. Ma no. Ma che schifo. Che posto sono arrivato? Quinto. Vabbè. GG. Chi sono? Ragazzi, ho vinto! Sono terzo o secondo, non lo so. Ragazzi, ho vinto! Ok, ragazzi, il video può anche finire qui. Se vi è piaciuto mettete tantissimi pollici in su. Abbiamo fatto due giochi diversi mai fatti in vita mia. E ci ho vinto! E ci ho vinto! Vabbè, il secondo non è proprio che ho vinto tantissimo. Sono arrivato terzo o secondo, non lo so. Però ho vinto comunque. Sono andato sul podio. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!